Buongiorno a tutti dalla redazione multimediale, dunque dopo Scicli questa notte Lampedusa, una nuova emmane tragedia dell'immigrazione, anche per usare le parole di commento del premere Ricoletta. Mezzo miglio dall'isola un barcone con 500 persone ha preso fuoco dopo essersi rovesciato davanti all'isola dei Conigli, è stata una strage. I soccorritori hanno già recuperato 93 corpi, molti dei quali di donne e almeno 4 bambini. Risultano già in salvo circa 150 persone, ma centinaia sono dispersi in mare, il bilancio dunque potrebbe aggravarsi e di molto. Sarebbe stata la decisione di dar fuoco a una coperta per far notare proprio il barcone la causa dell'incendio che poi ha provocato il naufragio e la tragedia. Uno dei presunti scafisti è stato fermato dalla polizia. Nel canale di Sicilia in 10 anni sono morte oltre 6.200 persone. Il 2011 l'anno nero con almeno 1.800 vittime. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si ipotizza anche il reato di omicidio plurimo. Per Lampedusa sta partendo in questo momento Angelino Alfano che poi domani dovrebbe riferire al Parlamento. Immancabili anche alcune polemiche politiche con la Lega che accusa il Ministro Chieng e Laura Boldrini in quanto portatrici di politiche buoniste sul fronte dell'immigrazione. Ma intanto polemiche a parte, come avete sentito, questa della Lega. Ci sono moltissimi commenti a quanto è avvenuto e sta avvenendo in questo momento a Lampedusa. Le prime parole del Papa sono state è una vergogna, è una vergogna. E poi ha aggiunto uniamo gli sforzi perché non si ripetano simili tragedie. Solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle. E poi un altro commento che arriva dall'Unione Europea che forse si sveglia, verrebbe da dire, è quello del commissario Ioannes Han che ha detto che le istituzioni dell'Unione esprimono la loro tristezza per quanto è avvenuto a Lampedusa. È una vera tragedia che ha coinvolto anche molti bambini. Dunque qualcosa forse si muove a livello europeo. E poi c'è questa strage che ha di fatto silenziato anche tutte le polemiche politiche dopo la giornata, per certi versi, indimenticabile di ieri. Oggi rinviati vertici, riunioni e incontri, compresa la conferenza stampa dei ministri del centrodestra, visto che come vi ho detto Alfano sta partendo per Lampedusa. Comunque la giornata di ieri, dicevo, una delle più intense per la politica italiana, ci restituisce un Berlusconi sconfitto a un governo più forte. Questa notte riunioni incrociate delle due anime del centrodestra. Nessuna decisione è stata ancora formalizzata per quanto riguarda la formazione dei nuovi gruppi parlamentari. Annullata anche la manifestazione dello stesso PDL, inizialmente prevista domani a Piazza Farnese a Roma, in concomitanza con l'aggiunta delle elezioni del Senato, che dovrà votare, come sapete, la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. E poi c'è l'economia. La fiducia incassata dal governo Letta è il miglior risultato possibile, ma le turbulenze politiche mettono in evidenza la fragilità dell'esecutivo italiano e possono ritardare le riforme strutturali e compromettere la ripresa economica del Paese. Quanto afferma l'agenzia di rating Moody's, che ritiene che l'Italia non conseguirà il suo obiettivo di riportare il deficit entro il limite del 3% del PIL entro il 2013. E a proposito di economia, vediamo subito uno sguardo ai mercati, che questa mattina avevano aperto con il segno positivo, soprattutto Milano, invece adesso lo vedete leggermente sotto, sta perdendo lo 0,05% l'indice MIB di Piazza Affari. Uno sguardo anche allo spread, il differenziale BTP-Bund, lo vedete 2,54, dunque qui è in deciso calo rispetto anche e soprattutto a un paio di giorni fa. È tutto per quanto riguarda questa edizione, la prossima ormai lo sapete 18.55, 5 minuti alle 7. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci, vi ricordo però prima di chiudere che potete seguirci anche per tutti gli aggiornamenti sul nostro sito tgla7.it e su Twitter. Grazie, arrivederci.